Weh che cana Dai li proviamo prendili quelli Super Soul Andiamo a vedere cosa vendono in un supermercato a Malaga Oh oh Mamma probabilmente ti viene già fame Ah Oh mio dio Cos'è questo Ventali di dimensioni reali Mamma per domani è colazione ti prego No Ma io sono diabete Non ti tocca Io sono diabetico Questa roba mi uccide al guardarla Andiamo dentro Ma magari c'è qualcosa di più bello Caramelle, caramellina, caramelluccia basoteria varia Pani, verdura Banane verdi Un po' verdi Più giallo Danaz Queste ci sono anche a Lisbona Identica Madonna questa roba che mi sta salendo la glicemia Guardarla Andiamo avanti Guarda c'è una bella scelta di Dolciun Vario ed eventuale 20 centesimi Ah ho uno sconto di 20 centesimi No Perché vuoi uccidermi? Belfino curioso No 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 Basta dai Un rollino Ah balconi Queste sono marche italiane Anche Ah però no Va bene Glutte free Mica male Voglio morire Voglio morire Andiamo avanti no? Oh Gesù 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 Oh mio Dio Sono come delle frittelle Non so cosa siamo Delfino vieni un attimo Delfino 2 alle 10 No le sfoglie Gli ammaledetti Le sfoglie C'è un casino di roba Guarda qua Delfino Guarda Questa una frittellina Eh che cana Dai li proviamo Prendili quelli I cereali Non sono dei grandi Consumatori di cereali Appunto parli spagnoli Non giusto un paio di repartini Niente di che Ancora dolciuni Una torta Una torta Un po' malaticcia però Ai ai Un po' di muffa Va bene lo stesso Reparto facciamoci male Barrette su barrette di cioccolatissimo Ancora cioccolato Cioccolato su cioccolato su cioccolato Oh E poi Oreofinas Che cazzo Che cazzo Che cazzo Devevo essere buonissimo Questo qua Riprendiamo Facciamo una review No Niente Quindi tanto penso di voler morire Devo prendere qualcosa di dolce Qui ci sono lo stesso Ci sono vari latte Al cioccolato E tutto Il belfino ha trovato Un mega Ciuppa ciuppa Più sono vari tutti i lati C'è latte alla frangola Latte alla vaniglia Latte al cioccolato Latte al cioccolato puro Cacca Neorgia Nesquitte Soia Ci di tutto No La colazione non sarà più la stessa Che bellino No E Buonavita Questi si chiamano Buonavita A Praga si chiamano Bebè Dobrerano Allora Patè di tutti i tipi Patè di Tapa negra un parte Un parte Un parte di Poco Un parte di salmone Un parte di pimenta Nel senso mi beccano che Regista non mi fanno un culo Come una capanna Sardina Sardine piccata Ancora altre sardine Sardina Ancora sardine Sardina 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 Camaronas Che sono i gamberi Madonna Camarones, trazos de pota, pota è la seppia, qui ancora abbiamo il polpo, c'è un secolo da mano, scatolette di tonno per le persone normali e poi c'è le scatolette di tonno per il delfino, questa è una mia mano, il delfino quando mangia il tonno ne mangia così tante, comunque anche chi, oh c'è su, cozzi in lattina, che bontà, madonna, mangio questa spruzzo per due giorni, i cannolicchi, non vedo ancora roba di italiana, roba italiana ancora non ne vedo, cos'è la bitter cass? in mezzo agli yogurt e a tutte le altre cose abbiamo trovato questo, sono biscotti frullati, il delfino ha perso conoscenza, ha dovuto rialimarla, penso che finirà nel nostro carrello, formaggi, formaggiose, formaggini, mezza forma di formaggio, lo sciurti, lo sciurti, lo sciurtali, pancetti, pancettini, sembrano mini salsicce, ma sono per i cani o per le persone? non lo so, nonché il delfino è stata attirata dalle mini salsicce, mini stick pavo e stick fuente capofrio, vabbè le proviamo, vediamo. la mia cera, il salame, c'è il salame e la capra, i sugi, abbiamo Barilla, c'è arrivato Gallo, questi sugi non esistono, ma questo non esiste, la bolognese non esiste, vabbè, c'è un po' di sugi, almeno non ho visto altra roba bolognese, a parte questi suoi, ho trovato il delfino che si è arenato qua, ahhh, c'è il torfino, c'è un po' di uso, ma c'è anche un'altra roba, cos'è sta roba? non so se c'è varie d'avventuali surini, allora, non mi ero accorto dello scatolamme, sono gli est, sono dei nudi istantanei, che mon, non so cosa siano, ma cos'è sta roba? gira, te che mon, sembra buono, no ma fammi vedere l'altro scatolamme, ma no, sono il nudo a scollerno con la forchetta che si gira da sola, non ci credo, non ci credo, bellissimo, regatemi per natale, no fammi vedere l'altro barattolo che c'è da lì, è un uomo di drag, che buono, no non questo, non questo, baratto di trippa, fammi vedere quello che c'è sotto, è quello lì, non ci credo, la trippa è barattola, sto per prenderla, non è vero, oggi no, spaghetti di riso, chili con carne, buonissimo. ciao